Siamo alla quinta edizione dello Youth Climate Meeting organizzato dalla Lega Ambiente. Quattro giorni a Pestum presso l'Oasi Dunale per confrontarsi, conoscersi e condividere. 350 giovani attiviste e attiviste vengono a tutta Italia perché hanno voglia di lottare per il proprio futuro, per la giustizia climatica e per una giusta transizione ecologica. In questi quattro giorni stiamo trattando le tematiche che caratterizzano la crisi climatica e la giustizia climatica, sempre con metodologie di educazione non formale, partecipative ed inclusive. Abbiamo scelto di parlare in questi quattro giorni della transizione ecologica e di come questa può essere un motore di trasformazione sociale. Abbiamo discusso dell'impatto della nostra alimentazione, ma anche di come ci approcciamo alle nostre lotte. Abbiamo quindi approfondito i temi dell'ecotransfeminismo e del pacifismo. Ci stiamo confrontando con le altre realtà e gli altri movimenti per essere più incisivi nelle nostre mobilitazioni. Anche quest'anno lo Youth Climate Meeting ospiterà la formazione dei responsabili di campo, dei campi di volontariato di Lega Ambiente. Da questi quattro giorni torneremo carichi e determinati, perché forse siamo ripetitivi, ma vogliamo giustizia climatica.